Ok, allora, 102, quindi proviamo a rientrare nel nostro Minecraft, abbiamo visto la volta scorsa come si fa, proviamo a vedere alcune operazioni che possiamo fare nel nostro Minecraft locale, quindi in Minecraft locale, entriamo sempre con la nostra identità, vedete che la seconda volta che entro è un pochino più rapido, nel senso che entriamo, più rapido si fa per dire, e a questo punto mettiamo schermo intero e abbiamo il nostro famoso Minecraft in cui abbiamo visto giocatore singolo, giocatore singolo è una piccola palestra che potete sempre fare per impratichirvi con le basi del gioco, questo qui non so cosa sia, aspetta un po', ah sì, la lingua, quindi non l'ho detto la volta scorsa, si può arrivare più tranquillamente con la lingua qua, ok, giocatore singolo, la volta scorsa abbiamo creato una modalità creativa, quindi entriamo nel gioco, quindi con doppio clic, oppure con gioca nel mondo selezionato, via, e noi abbiamo questo punto, dovremmo rientrare nel punto in cui eravamo l'altra volta, dal 101 abbiamo fatto coniglio, eccetera. Non faccio tipicamente, in questi incontri, non faccio lezioni di survival, ma lezioni di creative, questo perché survival ne trovate parecchie, perché ai bambini piace veramente tanto, invece di creative è un pochino più difficile da trovare. Allora, i comandi più importanti, li abbiamo un po' intuiti la volta scorsa, comunque, intanto voliamo un attimino, non ce la facciamo volare, vedete, perché siamo in modalità survival. Quindi, primissima cosa, premiamo il, ah, me l'ho dimenticato della volta scorsa, ma per fare il comando game mode, ho dovuto premere, dunque la T, mi abilita questa chat, e qui posso chattare, posso dire delle cose, oppure posso premere, sempre con T, ma poi premo la barra, questa, barra dritta, e possono dare dei comandi, i comandi li posso vedere con help, Ete che tra l'altro mi scrive anche in italiano, quindi clear giocatore, oggetto, eccetera, quindi fa un po' di cose, ma i comandi più importanti sono, per esempio, vediamo se è tradotto anche le notte, facciamo weather, è un comando importante, spazio, poi tab, mi fa vedere che cosa posso fare, quindi posso fare piovere, vedete che adesso è diventato piovoso, se non, se invece piove, io non voglio farlo piovere, basta che faccio T, barra, weather, weather in inglese vuol dire tempo atmosferico, e gli metto tab, posso dire clear, rain, thunder, quindi posso fare anche il temporale, ma a noi facciamo clear, clear permette di avere il tempo, ok, limpido, con poche nuvole, quelle sono le nuvole, eccetera, allora andiamo con il game mode 1, ok, quindi voliamo, per vedere un po' la faccia del nostro, del nostro mondo, vedete che siamo nel mondo boscoso, abbiamo delle montagne innevate, abbiamo un lago, credo, è bello, quindi questo è già un mondo interessante, ah, se per caso ogni volta che voi entrate, vi viene un mondo diverso, quindi la cosa interessante è di poter vedere, mi sembra che c'è un comando che si chiami seed, che dica qual è il seme, vedete quel numerello lì, il seme, è il numero di questo mondo, quindi se voi per caso andate su, adesso qui non so se lo dice, ma bisogna uscire al menu principale, giocatore singolo, qui, modifica, ah, c'è salvo il mondo, ah, apri la cartella, ecco, questo è interessante, perché il mondo può essere salvato, ma la cartella in cui c'è il mondo è questa qui, vedete, sotto punto minecraft, saves, e poi c'è il nome del mondo, e ci sono tutti i dati del mondo, quindi questo è importante per, per fare un po' di mestieri, ok? Quindi salva il mondo, se facciamo salva il mondo, l'ha salvato, insomma, e si garantisce che sia a posto. Torniamo dentro. Ok, siamo sempre dove l'avevamo lasciato, vi ho detto che qui, dopo un po', il mondo va in, lo vedremo che arriveranno i mostri verso sera, anche se siamo in modalità creativa, tanto tra poco poi vedremo il sole che andrà poi a scendere, quindi appena lo farà, ci attrezzeremo. Altri comandi, allora io avevo visto, avevo fatto vedere come si usava il comando fill, che permette di costruire, o di ripulire comunque una zona, quindi praticamente prima di tutto, andiamo in una zona, che è già magari un pochino, piatta, dovrebbe esserci comunque un posto senza troppi alberi, un po' bruna, ecco, prendiamo una zona che è già piatta in partenza, o un pochino piatta, ok, e in questa zona, vedete qui ci sono dei fiori, ah, tra l'altro ecco, qui nella modalità creativa non si capisce bene come funziona, nel senso che si può distruggere, togliamoci tutto, Allora vedete che, a mano che mi muo, vedete che compaiono questi, c'è il più in mezzo, che punta su un oggetto, se io clicco col tasto sinistro, vedete che butto via l'oggetto che è selezionato, lo butto via, in teoria se lo distruggo, adesso lo mettiamo magari in modalità game mode 0, così lo vedete meglio, modalità sopravvivenza, succede una cosa leggermente diversa, è che quando distruggo un oggetto, vedete non è che lo distruggo, ma lo posso prendere, cioè il fiore è diventato fluttuante, è un papavero, e quando ci passo sopra lo raccolgo, stessa cosa anche per, per altre cose, l'erba così, non me la fa prendere, ma i fiori sì, quindi la prima cosa che posso fare, ovviamente è raccogliere i fiori, una cosa analoga la posso fare, per, adesso qui vedete che, ecco, questo qui è un blocco di, suppongo, terra, infatti, terra, quindi io sto con la terra, posso, posso, diciamo, raccogliermi la terra, in realtà la cosa più importante, alla mia vista, è il legno, per costruire, ma questo lo vedremo magari, in una puntata apposta, in secondaria, vediamo invece adesso, come si fa a ripulire questa zona, qui c'è un uovo, la gallina ha fatto l'uovo, vedete che tra parentesi, qui dove ci sono galline, ci sono, fanno anche le uova, allora facciamo, impariamo a creare delle piattaforme, c'è un comando in Minecraft, che si chiama fill, che permette di creare una piattaforma, dando le coordinate, quindi vediamo un po', come si fanno a costruire, a cercare le coordinate, allora sono, in questa radura, in che coordinate sono? Non vedo nulla, no? Però se voi premete F3, vedete che in alto, a un certo punto, se voi andate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplayer, 7, 8, no, 7, quindi all'inizio del secondo blocco, di informazioni, vedete che c'è un, X, Y, Z, X, Y, Z, vi fa vedere la X, e praticamente la vostra dimensione, e ve lo fa vedere anche qua, X, e fondamentalmente la parte rossa, se non erro, ah, tra l'altro ecco, sta diventando buio, per evitare di essere infastiditi, potete fare, slash, e poi fate, time, set, se non vado errato, mille, ok, time set mille, permette di tornare, di impostare al giorno, così si evita che compaiano, zombie, e altri, poco, interessanti, insomma, personaggi, allora, quindi, vi segnate le coordinate, ad esempio, in questo momento, sono le coordinate, meno, 3, no, dove, anzi, vedete sotto, X, Z, tra l'altro, c'è una gallina, che ha deposto l'uovo, dunque, il, X, Y, Z, è, meno 12, meno 12, 64, 177, ma blocca, vi dice, con più esattezza, le coordinate, quindi, meno 13, 64, 177, ok, quindi, qui siamo, in un angolo, andiamo, in un altro angolo, in fondo, credete, che qui siamo, a meno, 34, 64, 177, ok, allora, a questo punto, impariamo a fare, una piattaforma, un pochino più alta, allora, l'altezza, di dove siamo noi adesso, è 64 blocchi, noi faremo, una piattaforma, che va, più o meno, nella diagonale, dove abbiamo indicato, ma un po' più alta, e la facciamo, con il comando, fill, quindi facciamo, fill, meno 13, abbiamo detto, poi, invece che 64, mettiamo 70, un po' più in alto, no? e 177, e poi, gli mettiamo, un altro indirizzo, che era, meno 34, abbiamo detto, 70, cioè, alto sempre a 70, e 177, e poi, gli diciamo, Vood, vediamo, cosa succede, non c'è, un oggetto, che si chiama, Vood, dunque, il nome, degli oggetti, vediamo un po', ah, log, ecco, log, sarebbe, praticamente, il legno, il legno grezzo, quindi, vediamo un po', se ce lo prende, allora, posso fare log, vedete, che abbiamo fatto, 22 blocchi, piazzati, cioè, mi ha piazzato, questi due blocchi, in realtà, dovevo cambiare, l'indirizzo, quindi, 177, non andava bene, quindi, facciamo, di nuovo, la barra, e poi, di 177, lo aumentiamo un po', quindi, facciamo, ad esempio, 200, e vedete, che abbiamo, effettivamente, una piattaforma, fatta, di legno, log, e segue le coordinate, le rivediamo un attimo insieme, queste coordinate, ok, quindi, dobbiamo, ammetterci, game, mode, 1, creativa, per poter volare, ci esercitiamo, andiamo su questa piattaforma, ok, così vi faccio vedere meglio, una volta che il terreno è piatto, è più facile, insomma, a capirsi, quindi andiamo su uno degli estremi, che è questo, e ci vediamo, cos'è, meno 34, 71, sì, perché io sono un blocco più in alto, del, del, sono salito sulle piattaforme, quindi sono un blocco più in alto, e, se vi ricordate, ho fatto barra, poi, con le freccine in sopra, vedo i comandi che abbiamo fatto prima, vedete che ho fatto meno 34, 70, 200, quindi, io, in questo momento, sono a meno 34, 71, 177, che è uno degli estremi della piattaforma, in realtà non è proprio quello che mi ho dato, ma è un altro estremo, escape, quindi in realtà mi dovrei tenere a mente questo estremo, e poi andare nella diagonale opposta, dove voglio fare la costruzione col fill, eccolo qua, qua, e qui vedete che ho invece, meno 13, 71, 200, quindi questi sono i due estremi, ok, che è uno degli estremi che abbiamo visto prima, quindi io dovrei prendermi semplicemente queste due coordinate che ho preso, metterle una presso le altre, in questo modo, e poi gli dico con che cosa riempirla, quindi se io rifaccio questo lavoro, ma con Vull, questa zona viene riempita di lana, lana che può essere di vari colori, nel senso che si può dire Vull, due punti, 15, no, facciamo Vull, Red, niente, allora il colore poi lo vediamo, perché cambia un po' tra il server, eccetera, però imparate adesso a prendere le coordinate, che è quello l'oggetto di questo micro corso, F3, togliamo questo che ci disturba, e voglio solo farvi vedere, quello che abbiamo fatto vedere, durante l'incontro, per capire bene, come fare una cosa simile, in modo un po' più strutturato, supponiamo di voler riempire tutta questa zona, ma con un parallelo epipedo, quindi col tasto destro, metto magari un po' di, di blocchi, ok, quindi, supponiamo di voler riempire, tutta la struttura, che parte da qua, e arriva fino a quell'angolo in fondo, ok, allora come faccio a farlo, vorrei capire, quali sono le coordinate, di questo blocco, uno dei metodi più semplici, è quello di, chiederglielo, cioè di puntare il blocco, con la più puntata, la crocina puntata su questo blocco, fare barra, e poi, chiedendolo con clone, clone, spazio, clone è un comando, che fa certi mestieri, ma noi in realtà, ci interessa, solo perché ci dà le coordinate, come fa a darci le coordinate, dobbiamo aiutarlo con il tab, quindi facciamo tab, ci dà la coordinata, x, spazio, premiamo ancora il tab, 75, spazio, tab, 177, e così abbiamo la coordinata, praticamente, del primo punto, ok, questa coordinata, c'è la, facciamo shift, freccia sinistra, e poi facciamo copia, ctrl c, ok, e poi andiamo, voliamo, nel punto opposto, ok, puntiamo sul cubo, su cui vogliamo, su cui vogliamo delimitare, facciamo di nuovo clone, e prendiamo le coordinate, con la stessa tecnica, tab, tab, ok, e magari, correggiamo, anziché 70, gli mettiamo uno più in su, perché così non tocchiamo la piattaforma, qui facciamo incolla, e ci mettiamo il, le coordinate che abbiamo visto prima, e poi, supponiamo di voler riempire tutto ciò, con iron, allora, iron, non va bene, bisogna fare, mi sembra, iron block, niente, iron sarebbe ferro, block iron, niente, mettiamo il log, ok, perché clone, ecco, perché non funziona, perché, dovevo fare, fill, quindi, devo correggere, fill, forse iron funziona, minecraft iron no, quindi riproviamo, underscore block, ok, iron block funzionava, e quindi, come vedete, abbiamo costruito, il nostro, parallelepipedo, questa è la tecnica, che permette di evitare, insomma, di stare lì, a lavorare a lungo, per, costruire, delle piattaforme, dei pavimenti, o delle strutture, è tempo di fare, time set, mille, ma anche, ma anche, weather, clear, ok, e così abbiamo il sereno, ok, quindi abbiamo visto, in sintesi, il comando fill, abbiamo visto due modi diversi, per prendere le coordinate, un modo è quello di posizionarsi, fisicamente sul blocco, e poi chiederglielo con F3, e andare a vedere, blocco, due punti, meno 6, C76, in questo caso, dobbiamo togliere 1, la seconda coordinata, che indica l'altezza, e poi ci posizioniamo, su un'altra posizione, qua, per esempio, e facciamo, prendiamo le coordinate, eventualmente ci alziamo un po', vedete che le coordinate variano, così, prendiamo le due posizioni, ricordandosi, togliere 1, alla coordinata Z, cioè, Y, che sarebbe la seconda, questo è un modo, che funziona sempre, diciamo, se invece, vogliamo prendere le coordinate, di qualcosa che esiste, lo puntiamo, e poi, facciamo la tecnica, col clone, tab, spazio, tab, spazio, tab, spazio, e queste saranno le coordinate, del punto, che sto puntando, tenete conto, che posso puntare, solo blocchi, fino a 5, distanti da me, quindi, se sono qua, questo 1, dove, questo è dove sono io, questo 1, 2, 3, 4, 4 blocchi, ok, allora, come, come spiegazione, insomma, per questo, secondo, piccolo video, sull'uso del comando, di fill, e di alcuni altri, comandini, potremmo avere finito, no, un'altra cosina, potrebbe essere, ma lo vediamo magari, sul server, il fatto di potersi, teleportare, che si usa il comando, TP, e il comando, TP, fate fondamentalmente, TP, il nome del giocatore, e poi il nome di un altro giocatore, in questo caso, nel mondo singolo, non funziona, perché ci sono solo io, quindi, potete teleportare, un giocatore, il primo giocatore, nelle coordinate del secondo giocatore, oppure, nelle modalità, diciamo, survival, si può fare il TPA, si può chiedere a un giocatore, se accetta, quindi, TP, ask, quindi chiedi, ah, non ce l'ha il TPA, quindi, help, TP, ci abbiamo, vedete che possiamo, spostare un giocatore, noi stessi, in una certa coordinata, però, non c'è il TPA, che è un comando, che funziona solo sui server, quindi, direi che, poi, nei prossimi video, andremo direttamente, su uno server, e così, siamo, siamo certi, di, di lavorare poi insieme, è molto più divertente, lavorare con gli altri, insomma, però, per tutti i fini, insomma, per esercitarsi, fate pure, questo, questo giro, in locale, da voi. non c'è il TPA,